ciao a tutti oggi prepareremo i blondi alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 burro zucchero uova lievito per dolci vanigliato vanillina pasta d'arancia sale e nutella diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro e lo facciamo sciogliere per tre minuti 60 gradi velocità 2 aggiungere lo zucchero ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 2 aggiungere le uova ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungere la farina il sale la vanillina il lievito e la pasta d'arancia ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 versare in uno stampo da 30 x 22 cm rivestito con carta da forno con un cucchiaino mettere la nutella cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20 25 minuti il blondi è cotto lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia tagliare a quadrotti spolverizzare con zucchero a velo e servire blondi alla nutella grazie e alla prossima ricetta spolverizzare il bimbi per due minuti a velocità spolverizzare le uova vessi spolverizzare il bimbi per due minuti da un maravillxx spolverizzare il bimbi lumière Grazie a tutti.